Belen Rodriguez rivela il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi in un'inaspettata svolta nei media. Belen Rodriguez ha deciso di confermare le voci che circolavano sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. La notizia, emersa per la prima volta durante il lockdown del 2020 e successivamente alimentata da incontri tra l'ex di Belen e la conduttrice, ha ora ricevuto una conferma diretta dalla showgirl argentina. Il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi il passato di tre anni fa vide voci di una crisi nel matrimonio di Belen Rodriguez con Stefano De Martino. E il 2020 vide la speculazione su un flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi. Nonostante le negazioni categoriche da entrambe le parti e le foto che mostravano solo un'amicizia a Capri, La notizia torna ora a galla con la recente dichiarazione di Belen. La conferma decisa di Belen Rodriguez, la risposta diretta di Belen è arrivata in risposta a un fan sui social media che chiedeva se le voci fossero vere. La showgirl argentina ha scritto chiaramente. Confermo. Ora gli occhi sono puntati su Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, i quali finora non hanno commentato pubblicamente le affermazioni di Belen. La reazione del pubblico e il futuro della vicenda all'annuncio di Belen ha suscitato reazioni intense da parte del pubblico, con molti che esprimono solidarietà e interesse per gli sviluppi futuri. La vita sentimentale dei personaggi pubblici è sempre oggetto di grande interesse. E questa rivelazione potrebbe portare a ulteriori svolte nella trama complessa delle relazioni nel mondo dello spettacolo italiano. Il focus ora si sposterà sulle risposte di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, le quali potrebbero gettare ulteriore luce su questa intricata vicenda. Resta da vedere come la situazione si evolverà nei prossimi giorni e quali saranno le reazioni degli altri coinvolti. In ogni caso, la vita privata dei personaggi pubblici continua a tenere incollati gli spettatori, con nuovi capitoli che si svelano sotto i riflettori mediatici.